eccoci qua ciao e ben ritrovati nella mia rubrica mister tech dove spacchettiamo nuovi prodotti della nuovissima tecnologia 2020 certe volte non è così ma oggi invece sì infatti vado a spacchettare questa bellissima nuovissima arrivata una settimana fa frigitrice ad aria della tristar la tristar che è una ditta olandese infatti il pacchetto arancione perché tutto quello che fanno in olanda diventa inesorabilmente inevitabilmente color arancio che è anche uno dei miei colori preferiti però non so perché gli olandesi hanno la fissa con quest'arancio la tristar in realtà voi potreste conoscerla soprattutto le ragazze per altri tipi di prodotti per la beauty care hair care piccoli elettrodomestici diciamo che la conservazione e il trattamento del cibo sono una piccola parte del business della tristar che è nata nel 1977 scoperto un anno dopo di me quindi è più giovane del sottoscritto che non è che ci voglia molto e che c'entra questo assolutamente niente comunque i prodotti della tristar sono di fascia medio buona questa nuova costa circa 110 euro io l'ho avuta in wear deal warehouse deal offer da amazon perché c'era il pacchetto qua leggermente rovinato quindi c'era questa sezione dove la scatola era danneggiata nel trasporto la scatola e non l'oggetto dentro quindi rifiutata dall'originale acquirente che l'ha mandata indietro così l'ho comprata io adesso per sciogliermi un po visto che ho imparato questo trucco dal fu sempre non abbastanza stimato mister thomas millian l'attore che mi ha ispirato tantissime delle mie scenette simpatiche io sono più orientato per fare bombolo però comunque facciamo finta di niente mi sciolgo un pochettino con il prosecco di fiocco di vite vino frizzante prodotto a costano belbo c'entra niente col video però è per sciogliermi un pochettino visto che sono appena andato a votare per la riduzione dei parlamentari bisogna festeggiare oggi è il 29 2020 20 20 20 20 più 20 più 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 per 6 prossimi questo questo parte non so nemmeno se entrare nel video comunque io ce la metto perché mi sta simpatico il prosecco ora ora che abbiamo sciolto un po' la linguetta perché prima era un pochettino impacciato possiamo spacchettare il nostro oggettone quindi diciamo una cosa prima di spacchettarla per la seconda volta perché questo serve per dimostrazione in realtà io l'ho già aperta e ho lavato i due componenti cestello e contenitore con acqua e sapone è una spugna non abrasiva fatta asciugare per togliere quel sentore che è dato dal prodotto nero antiaderente che riveste gli interni dove poi andremo a cuocere i cibi questo che cosa vuol dire che se voi non operate in quel modo rischierete quello che ho letto in diversi commenti la cottura non omogenea dei cibi ma soprattutto quel sentore è quell'odore strano di plastica cotta bruciata che dà fastidio e poi per mesi potrebbe permanere se invece voi lavate i due oggettini e li mettete ad asciugare gli date un'asciugata nel modo giusto dovremmo evitare quell'inconveniente che comunque non è un grosso inconveniente però a tanti può dare fastidio che comunque si tratta di cugnibo apriamo e spacchettiamo che ho già parlato fin troppo me lo dicono sempre ragazzi questo è il modello da 3,2 litri va bene per una o due persone per una famiglia normale di 3-4 elementi è meglio 5,5 litri 5-6 litri di spazio quelle grandi da 10, 12, 14, 16 litri sono già per un'attività intensa dove si cucina per tante persone quindi ve le sconsiglio se siete mononucleo come me facile a pulire poco odore non c'è bisogno di olio in realtà la frigitrice ad aria non frigge cuoce con aria caldissima che coibenta e segue questa convezione chiusa nella camera per cui c'è quest'aria caldissima adesso vi faccio vedere com'è fatta e qual è il principio termodinamico che permette di cuocere senza olio che è un po' il sogno finalmente realizzato di tantissimi sportivi di chi fa bidibolding, bodybuilding, fitness, ginnastica, artistica e tutto il resto insomma chi deve stare povero di grassi nell'alimentazione come il sottoscritto che già grasso di suo non aspettava altro che di avere questo oggetto che secondo alcuni ha veramente rivoluzionato le papille gustative settimanalmente si riesce finalmente a mangiare qualche cosa che non sia il solito pollo lesso o broccolo al vapore se le cuociamo qua dentro dovrebbero essere un po' più buone, speriamo, io lo spero sinceramente ecco qui, che bello, visto che la faccia è tagliata vi beccate la faccia sulla maglietta che è molto più simpatica e fashionist della mia ecco qua, allora, scatolone, morbidone iuppi cavolo, non è così spazzine magari questa parte la taglio di là c'è la maniglia imballaggio di cartone riciclato istruzioni in dieci lingue il pezzo è tutto qui ed eccola qua e lei la nostra crispy fryer xl fr 6990 da 3,2 litri semplicissima spina asciuco consuma 1500 watt a piena potenza cuoce gli oggetti tra i 18-20 minuti 10 minuti 15 minuti se avete da cuocere cose piccole tipo patatine fritte surgelate come quelle che andò a preparare tra poco adesso le tiro fuori dal surgelatore e abbiamo semplicemente maniglia per tenerla il blocco assomiglia un po' a un pezzo di Star Trek se guardo due semplici spie una è per l'accensione l'altra è per riscaldamento e questo è il timer quest'altro è quest'altro sopra è il termoscato per decidere la temperatura tra gli 80 e i 200 gradi poi ci saranno un po' di istruzioni ma a quanto pare quel che c'è scritto sul libretto va testato e provato dal vivo perché comunque a seconda di come le volete cotte come e quanto le volete cotte io prima di comprarlo ho fatto come faccio sempre cioè ho chiesto informazioni a chi ce l'ha già e per sentire se erano soddisfatti se funzionava se era un pacco se era una fregatura invece a quanto pare sono tutti soddisfattissimi i miei colleghi uomini che l'hanno comprata non conosco donne che adoperino la frigitrice ad aria che comunque si può adoperare anche per scaldare i cibi massimo 10 minuti o per simulare la cottura in forno ho sentito di persone che ci cuociano qua dentro le salsicce e le salamelle nelle istruzioni c'è scritto di non farlo non mettere cibi troppo galassi qua dentro ecco qua qui abbiamo il nostro blocco ma noi cuociamo gli sì i cibi qui c'è semplicemente un tasto sulla maniglia che permette di tirare fuori il cestello forato con le lamelle laterali per far scorrere bene la confezione dell'acqua ipercalda e questo invece è il contenitore che raccoglie i grassi l'olio e comunque le parti che andranno finiranno eliminate per cui noi dovremmo avere una cottura sana estremamente asciutta anche per quei prodotti che normalmente sono buoni solo quando li frigi tipo le patatine e le ali di pollo adesso noi facciamo la nostra bellissima prova e non resta che dare una cottura alle nostre patatine ma prima prima però un po' di bunga bunga no dunque qua sopra come funziona l'oggetto adesso non so se riesco a farvelo vedere bene però qua in cima c'è il blocco motore perché sotto è semplicemente la parte bombata isolata che serve a contenere il calore o a cercare di contenerlo farà uscire tantissima aria calda da qua dietro dal bocchettone per cui deve rimanere libero cioè deve essere uno spazio di almeno 10 cm liberi sopra e in alto e io suggerisco di metterlo in un posto dove sia un po' più libero perché ho idea che questo getto di aria caldissima qua posteriore potrebbe scollare rovinare deverniciare dei mobili eventualmente quindi non lo so ancora comunque noi nel dubbio cerchiamo di piazzarla in un posto logicamente sano e sicuro qui in cima abbiamo semplicemente una resistenza spiralata che non fa altro che scaldare come fa il forno e sopra c'è una ventola che ruotando dovrebbe disporre diffondere l'aria calda in modo estremamente uniforme così da cuocere ciò che metteremo nel cestello dappertutto allo stesso modo speriamo prima devo mettere nel cestello il cibo giusto mi inizia a fare effetto il prosecco mi sento tutto cacca caldato come se sudo poi accidenti sono andato a penneure per i non piemontesi sono andato a parrucchiere a tagliare i capelli quindi li ho tagliati tantissimo prima mi arrivavano qua adesso non so ma continuo a tenere un caldo della madonna allora abbiamo il nostro contenitore andrà semplicemente lavato non in lavastoviglie quindi chi è pigro si ricordi che contenitore e cestello vanno lavati a mano con la spugnetta non pugnetta è spugnetta quindi acqua sapone non aggressivo ecco le nostre patate a spicchi pre fritte e surgelate appena tirate fuori dal freezer che quindi finiranno a fare la nostra prova patate a rosmarino con la salsina vediamo se sono buone nel frattempo qua è già arrivata l'ora di pranzo quindi io adesso scaldo la macchina 10 minuti di riscaldamento oppure finché non si accende la spia verde adesso vediamo 150 gradi per 18 minuti dovrebbe funzionare speriamo magari funziona magari no ad ogni modo noi facciamo così la mettiamo a riscaldare in questo modo magari tiriamo fuori la spia dal buco ok qui rimane chiusa qui c'è l'oggetto come facciamo a tirarla fuori ecco non c'è nessun blocco per tirarla fuori o reinserirla si tratta semplicemente di fare così quindi adesso noi ce la prepariamo leggo ancora un attimo le istruzioni perché non sono ben sicuro del funzionamento allora intanto abbiamo la possibilità di cuocere patatine fritte patatine fatte in casa bastoncini di pesce surgelati cosce di pollo hamburger involtini primavera eh già perché io secondo te vado a mettere gli involtini primavera lì dentro torte quiche e muffin aggiungere un filo d'olio solo alle patate fresche per ottenere il risultato croccante si parla di un cucchiaino massimo un cucchiaio tempo di cottura temperatura 200 gradi quindi al massimo dove c'è scritto saltare la pietanza significa che a metà cottura vi mettete l'orologio e dovete un attimo tirar fuori cestello e contenitore scuoterlo un attimo per muovere e poi rimettere dentro speriamo che funzioni ecco se la macchina è fredda aggiungere tre minuti del timer per effettuare il riscaldamento se l'avete già cotto qualcosa prima la macchina è già calda e quei tre minuti non vi serviranno la temperatura di riscaldamento viene segnalata dall'accensione della spia che si accende e si spegne man mano se si spegne mentre state cuocendo è normale perché vuol dire che la temperatura di regime è stata raggiunta quindi la resistenza si stacca si riattaccherà poi quando scenderà di nuovo sotto i 200 gradi quindi se si accende si spegne si accende si spegne 10 minuti 3-4 volte non fate caso è così che deve funzionare esattamente come il forno di casa cavolo ma io ho cambiato il forno sta primavera adesso compro anche questa cosa praticamente dovrei cuocere in continuazione diventerò di nuovo un ciccionazzo yeah ma chi se ne frega tanto siamo nel 2020 allora conta di più il filtro sul telefono mica l'estetica reale ah bene per il riscaldamento e la cottura prima si mette il cibo poi si riscalda la macchina non si adopera il riscaldamento a vuoto quindi adesso mettiamo le patatozze lì dentro poi scaldo tutto io stacco un attimo il video e poi riaccendo e vediamo come sono venute io intanto mi finisco il prosecco nel bicchiere mica tutta la bottiglia eccomi qua ok mani disinfettate anticovidizzate quindi sono perfettamente in grado facciamo là è tutto pronto abbiamo detto 18 più 3 21 minuti e parte con il suo soffio parte subito la ventola io adesso mi attacco l'altro timer perché a 10 minuti dovrò interrompere un attimo tirare fuori il cestello senza schiacciare il pulsante di distacco dal cestello al contenitore fare semplicemente così e gli diamo una bella shakerata mentre facciamo questo vi ricordo di rispettare le norme di sicurezza non fare manovre strane perché comunque trattandosi di un oggetto simile a un phone beh non credo che vi porterete la frigitrice nella vasca da bagno però non si può mai sapere fate attenzione perché comunque potrebbe ecco qua parte un'aria per il momento è fresca però si sta già scaldando e un'altra cosa che ho letto su dei forum e sulle recensioni sotto è che soprattutto d'estate è meglio adoperarla in un'area un po' più grande perché altrimenti se avete tipo il cucinino morirete di caldo questo affare emette aria calda quindi d'inverno va bene perché vi aiuta con il riscaldamento d'estate no quindi attenzione a non soffrire la canicola e ci vediamo dopo per vedere come sono venute le patatine eh vi piace una patata eh ciao a tra poco nel frattempo ho approfittato per legarmi i capelli e apparecchiare un attimino in modo da fare il nostro assaggino ma per il momento dobbiamo solo fare la vorticanza quindi vediamo un attimo allora prendo qua tiro sì mi sembrano già abbastanza cotte dobbiamo semplicemente fare così ecco quando tu apri il sistema automaticamente si scolla senza bisogno di spegnere poi ci metto un po' di timo così per fare il figo ecco se fossero patate grezze cioè patate preparate fresche sarebbe magari da aggiungergli un filo d'olio non ho capito se subito o a metà cottura comunque fate i vostri esperimenti se ce l'avete non sento odori strani di plastica o di bruciato quindi direi che possiamo procedere il sale glielo metto alla fine quindi adesso vediamo se infilando la nostra sì ecco appena lo infilate sentite il click riparte tutto il sistema non so se lo sentite comunque qua è partita la ventola è partito il phon dietro e quindi dobbiamo solo aspettare che arrivi a fine cottura nel frattempo qua dice mancano 5 minuti io l'ho visto è un po' così diciamo quindi aggiungo 2 minuti e continuo a ritirare la roba stesa perché riesco a fare 2 cose in una anche se c'è qualcuno qualcuna che è convinto che noi uomini non riusciamo a fare 2 cose insieme in realtà ci riusciamo soprattutto se la seconda cosa non la faccio io direttamente ma ci penso è una macchina a dopo per l'assaggino e siamo arrivati alla nostra fine cottura un minuto fa fatto quindi adesso vediamo com'è andata tiro tira la fune tira appoggiamo qui per non fare danni schiacci il pulsante ottieni questo allora sotto direi che mmm non male ragazzi sembra proprio che funzioni adesso ne prendo una spero di non scottarmi e vediamo se non c'è ancora messo il sale buco sono bollenti però ragazzi sono cotte sono proprio come uno va in bireria ordina le patatine fritte se arrivano per tempo bella fumeggiante sì ragazzi sono venute benissimo ma veramente spettacolari quindi se non mi credete sulla parola e non ho messo un goccio di olio è vero che queste erano surgelate precotte però veramente spettacolo mi piacerebbe fare altri tentativi ho comprato anche i broccoletti però siamo andati sul classico le patatine sono buone anche senza sale cavolo ci ho messo solo un po' di timo comunque esperimento riuscito quindi se volete mangiare sano frigitrice ad aria vi ricordo che vi ricordo che io non sono sponsorizzato da nessuno la macchinetta me la sono comprata non ricevo non ricevo compensi da nessuno per parlare bene o male degli oggetti che recensisco è tutta farina del mio sacco quindi se mi credete bene altrimenti sappiate che ho parlato male degli oggetti che non mi piacevano che non mi soddisfacevano quindi 100% sincerità e se non mi credete sulla parola dovete solo provare da par vostro fino al prossimo video è tutto chissà che cosa spacchetteremo ho già la casa piena di qualsiasi gadget pseudo utile per cui chi lo sa chi lo sa bene grazie per essere arrivati fin qui se siete arrivati fin qui lasciate il pollice su oppure il pollice giù fate come volete attivate la campanella disattivate la campanella chi se ne frega ci vediamo al prossimo video ciao ah mmm 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 no mal Ciao!